Musica Buonasera e ben ritrovati ad ora locale, il nostro programma di approfondimento quotidiano che oggi sarà dedicato al mondo dell'oltrepò, ai grandi vini dell'oltrepò pavese che saranno protagonisti da domenica 9 aprile prossimo al Vinitali di Verona la più importante fiera enologica e di vini a livello internazionale parleremo di vini dell'oltrepò e della presenza dell'oltrepò in questa importante manifestazione con Emanuele Bottiroli, direttore del Consorzio Tutela Vini dell'oltrepò pavese Benvenuto Buonasera Con Fabiano Giorgi, presidente del distretto del vino di qualità dell'oltrepò pavese Benvenuto Fabiano Buonasera a tutti, grazie E con Roberto Lechianche, l'amico di Telepavia, presidente della strada del vino e dei sapori Benvenuto anche a te Roberto Grazie, buonasera Come dicevo all'inizio, l'oltrepò pavese in prima fila a Vinitali Sarà importante questa trasferta veronese perché l'oltrepò pavese ha bisogno di riscrivere la sua qualità percepita e lo faremo con tante aziende all'interno del padiglione Lombardia e anche alcune fuori dal padiglione Lombardia che però porteranno un racconto della qualità di questa terra in una maniera nuova e anche puntando su un approccio nuovo Io devo dire al direttore che probabilmente l'oltrepò pavese, le colline del Pino Nero, 40 minuti da Milano, culla dello spumante classico italiano e di altri grandi vini di qualità su tutti, Bonard, nostro best seller con 23 milioni di bottiglie prodotte ogni anno E' un approccio nuovo, quello che abbiamo fatto sino ad oggi per comunicare questa terra e la sua eccellenza, comunicare a valore e non a volumi questa terra forse non ha funzionato fino in fondo Quindi nello stand consortile, che sarà proprio accanto a quello di Guidando con gusto della strada del vino e dei sapori dell'oltrepò Porteremo un pochino di momenti anche di riflessione Un banco di degustazione dedicato alle due anime del territorio Metodo classico da una parte è Bonarda, quindi Pop e Top E dall'altra parte avremo la partnership con l'Università Yulm di Milano per ragionare su packaging, etichette ed emozione che dà la degustazione del vino Avremo una start up innovativa che si chiama Vino a Portè Che praticamente si basa su un concetto di riscrittura del modo di scegliere il vino Quindi via questi termini complessi da sommellerie, si invece ha un approccio attraverso questa start up Dimmi chi sei e ti dirò che vino dell'oltrepò fa per te Avremo anche le donne della vite, un'associazione culturale che è un po' il fai del mondo del vino Cioè donne viticoltrici che si occupano tanto del messaggio valoriale che lega indissolubilmente la cultura della vitivinicoltura alla salvaguardia del paesaggio vinicolo italiano Naturalmente avremo anche momenti di approfondimento all'interno dell'area eventi del padiglione Lombardia Alcuni dei quali in sinergia con Regione, dopo vi racconterò brevemente che cosa aspettarsi Insomma noi vogliamo comunicare concetti nuovi Infine avremo un'artista molto brava del nostro oltrepò che si chiama Maria Chiaragatti Che con una sua opera Fabulars, un nuovo modo di fare arte in connubio con il mondo del vino Ci permetterà di lanciare un'iniziativa che caratterizzerà questo 2017 e anche il 2018 Che si chiama Rinascimento d'oltrepò Vogliamo usare il grande linguaggio dell'arte per valorizzare il territorio vitivinicolo locale E richiamare anche turisti di cultura da fuori territorio Una delle grandi necessità di questo territorio è di essere visitato Anzitutto dalla grande città metropolitana di Milano Ma poi anche da tutto il Nord Italia in genere e perché no anche da altre zone italiane Perché abbiamo una terra che vale da far brillare Certo direttore, poi magari entriamo se sei d'accordo nello specifico di questo enorme mole di idee Che lancerete al Vinitaly Volentieri Presidente Giorgi, il distretto è un'altra importante realtà dell'oltrepò pavese Che si affaccia al Vinitaly Con quali prospettive? Come? Quali prospettive? Quest'anno l'edizione di Vinitaly per l'oltrepò ritengo che non sia importante Sia fondamentale Fondamentale perché l'oltrepò pavese sta compiendo da tempo, da anni Un faticoso percorso di rinascita Di riqualificazione a livello di immagine Le aziende loro lo stanno facendo Le istituzioni cercano di farlo Consorzio distretto insieme E anche strada dei vini che è qui presente Nella persona di Roberto Le Chiancole Stanno cercando di fare un percorso congiunto Nonostante le difficoltà del passato Per far sì che gli sforzi delle aziende Possano prevenire ad avere un risultato Il risultato che finora non c'è ancora stato L'oltrepò continua ad avere un livello di qualità Nettamente superiore a quello percepito Questa è la verità Quindi quest'anno il Vinitaly dovrebbe darci finalmente questa consacrazione E la consacrazione come si fa a raggiungere Non è facile dirlo Il distretto mette in campo le proprie aziende I propri produttori Quindi ogni produttore cercherà con i suoi prodotti Di far capire agli avventori Alle persone che verranno a visitare i nostri stand Della grande qualità che abbiamo Il Consorzio sta facendo il suo lavoro Il distretto anche il suo Proporrà delle degustazioni Proporrà anche uno spazio dedicato alla Bonarda Dei produttori del distretto Una cosa molto importante è questa Sulla quale ci stiamo battendo da tempo Per riqualificare un prodotto Che è molto importante per il territorio Il distretto si chiama Distretto dei produttori di qualità Dello troppo paese del Pino Nero e della Bonarda Questa è l'intera insegna Tra virgolette chiamarla così dal distretto Quindi è evidente che Pino Nero e Bonarda Siano le due produzioni più importanti del nostro territorio Il Pino Nero ha nel metro classico Una qualità enorme E sta crescendo molto a livello di numero E a livello di percezione D'immagine in tutti i locali Nelle noteche, nelle guide Quindi diciamo che stiamo lavorando molto bene Da questo punto di vista La Bonarda ha un qualcosina ancora Che deve essere sistemata Quindi dobbiamo far capire Che la vera Bonarda non è quella imbottigliata a Milano Monza o a Cremona Ma la vera Bonarda è quella imbottigliata nella provincia di Pavia Anzi, nelle colline pavesi Anzi, nell'oltrepo pavese Quindi questo è fondamentale Cerchiamo di farlo capire Con la Bonarda, con questa bottiglia Che facciamo Unica per tutti i produttori del distretto Che aderiscono al progetto E che ha delle regole ben precise Quindi questo sicuramente è quello che vogliamo Far vedere quest'anno in Italy Ripeto, è un'occasione imperdibile quest'anno Perché i progressi fatti Devono avere una consacrazione Quindi ritengo Che il lavoro del consorzio Si è stato buono Dal punto di vista Degli eventi Delle situazioni Che vengono ad essere Che sono state create All'interno di Vin Italy La parte delle ore Dobbiamo farla noi aziende Perché una cosa molto importante Che volevo dire È che Tutte le aziende poi si lamentano Del consorzio Del distretto Della provincia Della Camera di Commeria Di tutti Perché è abbastanza uso comune Far questo E a volte anche con ragione Però dobbiamo capire una cosa Io ritengo che le aziende Devono anche darsi una svegliata Ed avere la possibilità Cercare Quanto meno Di avere una distribuzione Più importante La vicinanza di Milano I privati Van benissimo Ma noi dobbiamo cercare Di avere Un tot numero di aziende Che abbia gente In tutta Italia Noi dobbiamo vendere In tutta Italia Per diventare Immagine Per diventare marchio Per diventare territorio Poche aziende Secondo me Si impegnano in questo Questa è una cosa fondamentale Perché Essere conosciuti a Pavia Non ha senso Se non si è conosciuto A Firenza A Roma Cioè bisogna allargarsi Bisogna allargarsi Sono spese Capisco i momenti Però forse adesso È venuto il momento Di osare Un pochettino Quindi Ritengo che questa sia L'opportunità migliore Per far crescere il territorio Tenendo presente il fatto Che finalmente Siamo arrivati Secondo il mio punto di vista Secondo il punto di vista Di tanti Ad una qualità complessiva Molto migliore Rispetto al passato Certo Presidente Le Chiancole Come Presidente Della strada Del vino e dei sapori Dell'oltreppò pavese Da come ho capito Dal direttore Bottiroli Viaggerete Un po' in simbiosi Con il consorzio Al prossimo Vinitali Senz'altro Beh Come ogni volta Ribadisco il concetto Che la strada Dei vini e i sapori Non è un'altra associazione Dei vini Di vini Noi ce ne sono Ne abbiamo già abbastanza Inoltreppò Oltretutto ne nascono ancora Pertanto noi saremo di supporto Al Vinitali Noi saremo di supporto Esprimendo il territorio Cioè organizzando Delle degustazioni Non di vini Ma del cibo Insieme con il consorzio Del salame di Varsi Provederemo A determinati orari A dare degli aperitivi A fargli dei risotti Tutto quello che è prodotto Del territorio Unitamente anche I nostri soci Che hanno i ristoranti O agriturismi Proporremo qualche cosa Anche di aperitivi Questo è il nostro intento Che è a disposizione Proprio dell'area Dell'oltreppò Pavese Al Vinitali Qualsiasi produttore Potrà accompagnare A far degustare Le specialità Diciamo dell'oltreppò Presso il nostro stand In più Quest'anno Per quel evento Che è organizzato Per martedì E che credo Che il direttore Lo spiegherà meglio Noi saremo In supporto Anche a questa Iniziativa Dove verranno Datti proprio A giornalisti Eccetera Una degustazione Molto particolare E presenteremo Con quell'occasione Il nostro progetto Del 2017 Che avevo già Presentato qui E da te Che finalmente Si è concretizzato Che è quello Di Vivi Milano E che Credo che ci avvicinerà Molto A Milano Avvicinerà molto L'oltreppò A tutta quella Clientela Che normalmente Viene giù Il sabato La domenica Lo faremo conoscere meglio Certo Direttore Io sono curioso Tu hai citato All'inizio Ve lo sono segnato Prima Vina Portè Una app Un qualcosa Del genere Giusto Che fa calzare A pennello Su ognuno di noi Il proprio vino Preferito Certo Perché Dimmi chi sei Ti dirò Che vino Scegliere Perché Cos'è successo È successo Che la comunicazione Del vino Ha un po' Allontanato Al consumo Del vino Perché Se il vino Si mette Troppo Su un piedistallo E non scende Fra la gente In particolare Fra quelli Che gli esperti Di marketing Chiamano Millennials Quindi I giovanissimi Si crea Una fuga Verso Altri prodotti Pensiamo Al successo Della birra Artigianale Pensiamo Alle difficoltà Che un'azienda Di qualità Del territorio Mette Nel fare Un bonarda E guardiamo Qual è il valore Medio In grande Distribuzione Di una bonarda Rispetto A una birra Artigianale Qui si deve Colmare un gap Giorgi diceva Una cosa Saggia Intelligente Dobbiamo Tornare A spingere Il produttore A fare il placement Del proprio Prodotto Tant'è vero Che in grande Distribuzione C'è un mondo Non ci sono Solo le offerte In taglio prezzo Che vanno Attenzionate Ci sono anche Vini Di gamma Alta Che vengono Venduti A un rapporto Qualità Prezzo Unico Vinaportè Cosa fa Vinaportè Farà delle domande Ai nostri avventori A Vinitali E chiederà Qualcosa di loro In base Alle risposte Che avranno Questi ragazzi Hanno inventato Un codice Molto semplice E diranno Il tuo vino È bonarda Il tuo vino È oltrepo Di Ocg Il tuo vino È Pino Nero Dell'Oltrepo E il tuo vino È Riesling Dell'Oltrepo E questo sarà Un gioco Rendere un gioco La scelta di un vino Può essere un modo Per suscitare Curiosità E interesse Fatemi dire Un'altra cosa Che è questa Guidando con gusto Guidando con gusto Un anno fa È rappresentato Come un progetto In divenire Ave in Italy Quest'anno Ci sarà la guida Da acquistare Con 500 chilometri Di itinerari Roberto Dico bene Con una gamma Di proposta Straordinaria Per dire Al pubblico Che ci sono Tantissimi motivi Per venire Inoltre Popavese E innamorarsene Da allora È nato anche un sito Guidando con gusto Punto com Dal quale è anche Possibile Acquistare questa guida Che è stata richiesta Da innumerevoli parti D'Italia E devo dire Che ha avuto Proprio Il grande merito Questo progetto Di dire Che per l'oltre Popavese C'è grande spazio Dico anche Un'altra cosa Che il nostro partner Scientifico Yulm Ma noi stiamo Lavorando fortemente Anche con L'università Di Pavia Perché abbiamo Costituito Un osservatorio Di wine marketing Internamente Il consorzio Perché Perché quello Che diceva Fabiano Giorgi E io lo richiamo Perché ha portato Degli spunti Molto importanti Va visto E inquadrato In un mondo Che è molto veloce Oggi i cambiamenti Anche sul mercato Del vino Avvengono Con una rapidità Incredibile Ci sono zone emergenti Che stanno facendo Qualità Acquisendo Know-how italiano È necessario Osservare i trend Sia in grande distribuzione Cioè al supermercato Sia in enoteca Sia sul canale Oreca Hotel, ristoranti E catering Per essere sempre Nelle condizioni Di non rincorrere Una novità Ma da un certo punto Di vista Di intercettare Un'onda Che parte Oggi ci sono Alcune onde Che stanno partendo Ne rifletteremo A Vinitaly L'onda del biologico E delle certificazioni Volontarie Poi c'è L'onda del ritorno Al piccolo produttore Io voglio sapere Dove nasce il vino Stiamo arrivando Alla voglia Alla corsa Dell'integralmente Prodotto Imbottigliato In zona d'origine C'è poi Il grande filone Dei vini naturali Questo Io Questo tema Non mi trovo Spesso concorde Con questa critica Inginocchiata Di fronte Al produttore Di vini naturali C'è il produttore Premetto Che inoltre Povese I vini Grazie a Dio Sono naturali tutti Poi c'è il produttore Diciamo Che fa scelte estreme Che fa vini di qualità C'è il produttore Che fa scelte estreme Che fa vini difettosi E che non va portato Come un sultano Ecco Io dico però Che c'è un ritorno Ad aver voglia Di racconto Del produttore C'è un ritorno Anche Nelle cantine E Giorgi Me ne è buon testimone Le chiancole pure Vogliono guardare Negli occhi Il produttore E vogliono Che sia il produttore Con i suoi valori E la sua etica A garantire Quel prodotto Dobbiamo fare Delle denominazioni Un brand E per fare Delle denominazioni Un brand Oltre Popavese Deve diventare Un emblema Di qualcosa Di qualità Di tracciabile Di certo E di Veramente Taylor made Fatto su misura Ogni vino Qui è fatto su misura Sulla base di un gusto Di un consumatore Che a Vinitali Vogliamo contattare Per portarlo Sul territorio Condividi in pieno Direttore Giorgi Io ero stato La settimana scorsa Alla presentazione Del padiglione Lombardia In regione Con l'assessore Gianni Fava L'assessore Agricoltura Parlava anche Di un concetto Che oggi qui Non l'avete ancora affrontato Che è l'internazionalizzazione Tu sei una delle cantine Più grandi Dell'oltre Popavese Quindi Ovviamente L'estero Per tanti È ancora un miraggio Sicuramente Non per la tua Non magari Per prima altura Di Le Chiancole Ma sicuramente Per tanti produttori L'estero È ancora un miraggio Guarda Ti devo contraddire Perché non è un miraggio Forse È stato preso Un po' troppo Con entusiasmo Il discorso estero Noi continuiamo A parlare di internazionalizzazione Ormai tutte le cantine Anche quelle piccole Possono andare all'estero Ci sono le opportunità Tramite internet Tramite le agenzie Che esistono Ormai Pullano Sempre di più Nel territorio nazionale Che lavorano con l'estero Tramite le fiere E quindi Anche i piccoli Stanno andando all'estero Questo è un bene La cosa che non mi convince molto Io ogni tanto lo dico Questo Sembra un po' Controtendenza È che non dobbiamo Concentrarci troppo Sull'internazionalizzazione Prima di aver conquistato Il nostro mercato Noi dobbiamo ancora Conquistare Pavia E pensiamo A conquistare il mondo Questo deve far pensare Giustamente Bisogna guardare all'estero Ma prima pensiamo Al territorio nazionale Nessun territorio al mondo È riuscito a diventare Un qualcosa di importante All'estero Senza essere nessuno In Italia E l'oltre po' Purtroppo adesso In Italia Non dico che è nessuno Ma ha una credibilità Non all'altezza Concentriamoci sul mercato italiano Intanto non dimentichiamo Le eventuali opportunità Che possono capitare all'estero Ma non buttiamoci a capo Con confitto all'estero Anche perché il mercato straniero Adesso è difficile Il prezzo Anche lì adesso La fa da padrona Non è più come una volta Tutti possono approcciarsi Con le nuove Forme di comunicazione Nuove forme di vendita Al mercato estero Anche chi fa poche bottiglie Può approcciarsi E come in oltre poi In tutto il resto d'Italia In tutto il resto del mondo La concorrenza è ancora più grande Se non abbiamo un valore aggiunto Dato Dall'immagine territoriale nostra È difficilissimo Quasi impossibile Quindi l'internazionalizzazione Va benissimo Ma dobbiamo avere Delle basi solide Sul nostro mercato Le chiancole Il futuro Dell'associazione Sottolineo associazione No Beh Prima di tutto Il nostro E lo sarà anche Galvin Italy Il nostro compito La nostra mission È quello di raccontare il territorio Raccontare il territorio Attraverso i sapori E attraverso l'accoglienza Quello che si può fare in oltre poi Questo è un po' La nostra mission Come aveva già detto prima Emanuele Questa guida C'è stato molto d'aiuto Perché Senza di questa Che promuoveremo Ancora una volta Perché abbiamo già promossa In parecchie attività Anche venendo qua da voi È proprio il biglietto Da visita Ero tre po' Dice Come ha detto Ha sottolineato E evidenziato Emanuele C'è la storia Di ogni cantina Di ogni Di ogni agriturismo C'è la storia Perché noi dobbiamo Raccontare la nostra storia Lo vedo come esperienza Io mi sono Sottotitolato Nel mio biglietto Nel mio biglietto a visita Oste in oltre poi E questo è Diciamo La caratteristica particolare Perché la gente viene Assaggia i vini Degusta Ma vuole sentire anche la storia E la prima cosa Che dobbiamo fare Questo sto cercando Di promuoverlo All'interno Della nostra associazione Dobbiamo raccontare il territorio Io quando Ogni volta Vengono in cantina Da me Che vogliono fare il giro Racconto prima La storia dell'oltre poi Che in sintesi 45esimo parallelo Parallelo del vino 2000 avanti Cristo Che abbiamo le vigne È la seconda o terza zona Nel mondo di produzione Di pino nero Dal 1865 Che Conte Vistarino E Conte Gancia Fanno il metodo classico Che non è il prosecco Ma è doppia fermentazione Gli racconto un po' Tutte queste storie E questo Al di là di affascinare Comunque Dà subito immediatamente Valore Al prodotto Che tu stai raccontando Certo Fabiano Faccio il giro il contrario Lascio per ultimo Visto che manca ancora Qualche minuto Il direttore Si parlava prima Anche di marketing Come stavano facendo Anche adesso Le chiancole Ti slego Dal tuo ruolo Di presidente Del distretto Tu Ti sei Avvicinato A un personaggio Illustre del nostro territorio Che è Gerry Scotti Che grazie anche La tua esperienza Di viticoltore Eccetera Farà prossimamente Un vino Anzi l'ha già fatto E noi qua abbiamo Una bottiglia Che adesso faremo vedere In anteprima Grazie per l'esclusiva Di un vino Anzi di tre vini Se non sbaglio Raccontaci qualcosa brevemente Sì Intanto la bottiglia È un regalo per te Quindi Grazie mille Ben volentieri Allora la prima cosa che devo dire Sono veramente molto contento Che Gerry Scotti Abbia scelto noi Come partner Di questa meravigliosa avventura Anche perché Gerry Scotti È un numero uno E se avesse comprato O fosse andato In un'altra azienda Mi sarei preoccupato Per le mie vendite Perché è veramente Una persona Che merita di essere Dove sta Che merita di essere Un numero uno Nel suo lavoro Ma potrebbe benissimo Diventare un numero uno Anche nel lavoro nostro Perché ha una Ha una passione Ha delle conoscenze E delle capacità Che mi hanno veramente stupito Detto questo È una bellissima esperienza E ne parlo Anche perché Penso che sia Un grandissimo Valore aggiunto Per tutto il territorio Oltrepadano Quindi Non sto parlando In questo momento Della mia azienda Ma sto parlando Della Oltrepopavese E penso che persone Come Giarriscotti Non possono fare altro Che aiutare Il nostro territorio E continuiamo a dirlo L'ha dato Emanuele L'ha dato Roberto Ad avere quella conoscenza Quella immagine Quella riconoscibilità Che manca adesso E Giarriscotti Con la sua Grande popolarità E con la fiducia Che tantissimi italiani Nutrono nei suoi confronti Se si è avvicinato Non è vero È un pavese di origine Però Non le vietasse Che anche perché Oramai Voglio dire È un cittadino D'Italia E quindi Poteva anche Rivolgersi altrove E il fatto Che ci sia avvicinato Invece All'Oltrepopavese Testimonia Il fatto che Comunque noi pavesi Il nostro orgoglio Ce l'abbiamo E un personaggio Come Giarriscotti Può dare lustro Dare conoscenza Sempre di più L'Oltrepopo Dare impulso Dare impulso Un impulso importante Quindi lo ringrazio pubblicamente I vini saranno Saranno tre vini Tipici del territorio Una Barbera Un riso in granano E un pino nero Vinificato in rosa Tutti vini fermi Che avremo in cantina Di grande qualità Ci sarà la presentazione A Vinitaly La presentazione Avverrà lunedì 10 aprile Alle ore 11 Al Pala Expo C'è già grande fermento C'è grande attesa E soprattutto C'è grande soddisfazione Per un qualcosa Che può essere importante Ripeto Non solo per l'azienda Giorgi Ma per tutto l'Oltrepopavese Direttore Ti lascio la conclusione Di questa trasmissione Allora io concludo Ringraziando Dicendo che l'appuntamento Con l'Oltrepopa è Vinitaly Tra l'altro la domenica Sul sito vinooltrepop.org Che è il sito del consorzio Ci sono anche le informazioni Per chi volesse venire in pullman Con l'associazione Vitis Vinifera Abbiamo questo grande appuntamento Questo grande appuntamento Con Gerry Scotti E un grande appuntamento Il martedì Con la strada del vino Nell'area eventi Ma non voglio dilungarmi su questo Anche per la Bonarda Martedì avremo una degustazione importante Scusami se ti interrompo No no Perché vorrei lanciare Dalle 14 alle 16 Vorrei lanciare questo messaggio Quando l'Oltrepopa sarà una terra matura Direttore E una terra capace di un marketing di sé Quando imparerà a gioire Dei successi E delle operazioni brillanti Come quella di Giorgi Con Gerry Scotti Perché quando riusciremo a essere così maturi Da capire che il successo degli altri È un successo che illumina comunque una zona E un territorio E impareremo a non andare sui social network O al bar A fare del pettegolezzo E dire delle idiozie Allora saremo maturi Fino a quando prevarranno i distinguo E questo vecchio modo Che appartengono su un po' Un retaggio del passato Il mio vino è buono Il suo no Vivere sempre con l'ascia sul comodino È una bruttissima cosa Allora godiamo di questo momento Che l'azienda Giorgi Regala a se stessa E all'Oltrepopa Con un grande testimonial Della nostra terra Rarissimo Vedere un testimonial Della nostra terra Che parla della nostra terra È una cosa più unica che rara Io sono sicuro Che parlerà Gerry Scotti Tantissimo di tutto l'Oltrepopa E mi auguro Che ci sia la maturità Da parte del mondo dei produttori E anche in Oltrepopa Di avere questo orgoglio Perché questo è un discorso che vale Per i premi delle guide vini Vale per le operazioni Con i testimonial Che qui non è proprio un testimonial Ma è un conduttore Una star televisiva Di primo piano Che viene a fare vino In Oltrepopa Quindi è una cosa È il mio nuovo socio Ecco quindi questo Questo per dire che cosa Per dire che l'Unione Può fare la forza Che se si è sbagliato Qualcosa in passato Non vuol dire Che non si possa guardare Il futuro Su presupposti nuovi E che Fatemi dire Il successo di uno Può diventare veramente Il successo di tutti Basta volerlo Quindi godiamoci Questa grande presenza Dell'Oltrepopa Al prossimo Vinitali Ringrazio Bottiroli Giorgi E Le Chiancole Per la loro presenza Chiudo qui la puntata Di ora locale E vi lascio in compagnia Della nostra programmazione Buonasera 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 Buonasera